Musica Manifesto produce imbarazzo a Giffoni. Continua a far discutere l'iniziativa dell'esponente locale di Noi Consalvini. Il paese si divide ma divampano le polemiche. Il caso è diventato nazionale, il movimento ha preso le distanze e caccerà l'autore del manifesto. Abbandonato dopo l'attentato, a Rione Sanità a Napoli la rabbia di Mariano, il titolare del bar, incendiato dalla camorra nei giorni scorsi. Nessuna solidarietà dai altri commercianti ma lui dice non mollo, resto qui. Video al San Giovanni, formiche in corsia. Nuova emergenza sanitaria per l'ospedale della Doganella. Nemmeno l'intervento di disinfestazione ha migliorato le cose dopo le invasioni di Zanzare e Tafani, filmate colonie ed insetti nelle aree mediche. Malattia rara, bimba salvata e successo all'Andolfi di Solofra grazie alla tempestività della diagnosi del professore enunziata e della sua equip. Una bambina di tre anni di Montoro, affetta da una rara malattia, riuscirà a salvarsi ora e al santo bono. Infiamme l'auto dell'ex sindaco, paura nella notte a Montesarchio in Valle Caudina. Un ruogo ha distrutto la vettura dell'ex primo cittadino Antonio Izzo. Confermata la natura dolosa delle fiamme, gli inquirenti battono tutte le piste. Incendi, emergenza senza fine in Campania. Gravi danni dei roghi sul Vesuvio, nuovi focolai in Irpinia, tra 15 e Brasigliano. Chiusa per le fiamme il pericolo di caduta massi, la statale tra Sapri e Maratea. E ad Anacapri è emergenza idrica. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di 8 Channel News. Quelli che abbiamo appena seguito erano i nostri titoli e come avete sentito in apertura la bufera di polemiche avvenuta a Gifoni Valle Piana dopo la pubblicazione del manifesto produce il movimento di Salvini e pronto a cacciare dal partito l'autore della campagna. Ma c'è davvero tanto imbarazzo in paese. Sentiamo, Rossella Strianese. Un manifesto che è diventato virale e che ha alimentato una bufera di polemiche. Un inno al duce, in chiave anti-Renzi. Un inno al fascismo, apparso sui muri di Gifoni Valle Piana, in provincia di Salerno, la città del festival. L'autore del manifesto, il ragionier Guido Carpinelli, ex Alleanza Nazionale, oggi esponente del movimento Noi con Salvini, si è detto stupito di tanto clamore e ha difeso la sua campagna contro Renzi. Ma la Lega ha preso le distanze, inviandogli una lettera di diffida. Quel manifesto non ci rappresenta, così danneggia il nome di Salvini, ha detto il coordinatore provinciale Mariano Falcone. Ma in paese quel manifesto, che resterà fisso per dieci giorni, ha creato qualche imbarazzo. È una cosa vergognosa. Andiamo a togliere, non vi preoccupate. Se andate in giro, ci sta la falce al martello disegnata quasi ovunque a Bassi, che è un quartiere comunista, quindi non penso che la gente del paese appoggi pienamente la cosa. Ma non c'è pure apologia del comunismo, no? Penso che qualcuno ha espresso la sua idea, semplicemente. Comunque c'è una legge che non si possono mettere, è abbandita. Quella che l'ha messa, ha messa così abusivamente, a un onnimo, senza dire... Guido Carpinelli si è firmato. Ah, come regolo può prendere una denunzia. Lei ha visto quel manifesto, ha visto la faccia di Mussolini. Io tengo il busto, tutte le mattine quando mi alzo ci dico buongiorno Mussolini e gli faccio la preghiera, non le chiedo niente, mi ha dato tutto, mi ha dato la zappa, ha detto qua devi zappare, perché è pane per oggi e per domani e a Mussolini lo voglio come padre. E adesso parliamo dell'incendio al bar, al bar di Mariano, un commerciante del rione Sanità, tanta amarezza nelle parole dell'esercente per l'assenza di solidarietà da parte dei suoi colleghi. Incredulità, ma allo stesso tempo voglia di non abbassare la testa. Mariano non si arrende. L'incendio al suo bar, nel quartiere Sanità, ha bruciato la sua attività. La camorra ha incenerito il frutto di tanti sacrifici fatti per garantire un futuro ai propri figli in una terra che opportunità ne dà poche. Ho trovato i pompieri dei carabinieri perché ci hanno incendiato il bar. Il tutto in uno strano silenzio, quello dei commercianti che non hanno fatto sentire la propria vicinanza. Io ho aperto il bar per i miei figli, non ho fatto una cosa per me. Visto che la zona è un po' particolare, che non fanno niente per difendere la zona, tanto è vero che i propri commercianti della zona non sono venuto nemmeno a chiedere di cosa è successo, solidarietà zero. Non ho nemmeno il caffè, stanno venendo a prendere. Non lo so, sono un po' perplesso, come diceva in Napoli, c'è roba collera. Ma Mariano non molla, non abbassa la testa di fronte al cancro della propria terra e non solo. Il futuro dei propri figli è la molla che gli consente di tenere la testa alta, rimboccarsi le maniche e dimostrare di essere più forte, di chiuso il fuoco per fare paura. Sicuramente io non mollo sto qua. Io ho aperto una cosa per fare una cosa buona, di un altro quartiere, proprio una cosa per i miei figli, quindi io ci credo nella zona. ma dovete anche denunciare ragazzi, fate una forza, perché non si può stare sempre lì a aspettare che non è successo a te. Paura, la stessa parola chiave che usa Ivo Poggiani, presidente della terza municipalità di Napoli. Il primo a sapere che tanto si deve ancora fare per debellare questo male. C'è da lavorare da questo punto di vista, questo è ovvio. Io parlerei diciamo di, non parlerei di omertà, parlerei di paura. La paura è sempre legittima in questi casi ed è difficile giudicare da fuori. Quando ho sentito la cosa ho visto i miei sogni andare in fumo, così, perché io ci credo, se no lo stesso è qua. Dimissioni a raffica nel comune di Torre del Greco dopo l'arresto del sindaco Ciro Borriello per un sospetto giro di tangenti sull'appalto sui rifiuti. Dopo l'addio di sette consiglieri di opposizione ha deciso di lasciare anche il vice sindaco reggente Romina Stilo e con lei gran parte degli assessori. Ora si attende la decisione della prefettura su un eventuale scioglimento del consiglio e la nomina ovviamente di un commissario. In carica restano soltanto gli assessori Domenico Balzano, sindaco reggente, Virna Bello nominata lo scorso 28 luglio. Con Abilitato e Guarino sono saltati a 9 sui no 24 consiglieri che sono effettivamente dimissionari. E adesso torniamo a Napoli, nuovo scandalo al San Giovanni Bosco. Nell'ospedale della Doganella spunta la sfilata di Formiche. Formiche nel reparto del San Giovanni Bosco, terza emergenza sanitaria per l'ospedale della Doganella di Napoli. Un nuovo video shock compare questa volta sul sito online del mattino. Nessun intervento di disinfestazione ha di fatto scongiurato l'emergenza che torna a riproporsi tra corridoi e corsie. Zanzari e Tafani, gli sgraditi ospiti nei mesi scorsi nel nosocomio di via Filippo Maria briganti, ma ora sono arrivate anche le formiche nelle aree mediche del secondo piano della struttura ospedaliera. Li hanno viste sfilare tra medicheria, area dei reparti di medicina e neurologia. E tra i ricoverati c'è chi grida immediatamente allo scandalo riprendendo tutto e poi postandolo sul social. Non c'è pace per gli ospedali napoletani. Solo qualche settimana fa lo scandalo travolse il San Paolo quando le formiche arrivarono persino sul letto di una paziente. Al San Giovanni Bosco, è bene precisarlo, le formiche non hanno raggiunto le stanze dei ricoverati, ma di certo non c'è tempo da perdere. Ci sono state variazioni di disinfestazione e bonifica con appositi cannoni posizionati all'esterno della palazzina ospedaliera. L'ultima è avvenuta il 31 luglio. Tali interventi, voluti dai vertici dell'ospedale della Doganella, sono stati effettuati con massimo scrupolo e assicurando la pulizia delle aree dove si era registrata qualche criticità. Lo assicura Luigi Di Paola, direttore sanitario a cui non risulta alcuna emergenza in corso. E adesso parliamo sempre di sanità, ma ci spostiamo in Irpinia. Si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra, in gravissime condizioni. Una bimba di tre anni ha rischiato di morire perché è affetta da una rara malattia. A salvarle la vita, la tempestività della diagnosi effettuata dal primario di pediatria, il professore Felice Nunziata e dalla sua echipa di esperti. Dai sintomi accusati dalla piccina, residente con la famiglia Montoro, il professore Nunziata ha verificato che si trattava di una sindrome emolitico-uremica, sindrome caratterizzata dall'associazione di manifestazioni patologiche a carico di sangue e anche dei reni. Una malattia che è associata ad infezioni gastrointestinali provocate da batteri come l'escherichia coli. Il professore Nunziata ha immediatamente disposto il trasferimento al reparto di neonatologia e nefrologia al Santo Bono di Napoli, dove le verranno prestate le cure più adeguate per superare questa difficile patologia. E adesso cambiamo argomento, due veicoli in fiamme nella notte, nel sagno. Si tratta dell'ex sindaco di Montesarchio e di un camion di un'impresa di Pannarano. Ci racconta tutto il collega Alessandro Falladino. Potrebbe essere doloso l'incendio che la scorsa notte a Montesarchio in Mallecaudina ha distrutto la Mercedes dell'ex sindaco Antonio Izzo, 58 anni, imprenditore molto noto in tutta la campagna per le sue attività. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona di Via Porino, nei pressi di Piazza Croce, dove l'imprenditore aveva lasciato in sosta il veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bonea e i carabinieri del nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Montesarchio. Spente le fiamme, i militari e i pompieri hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini per stabilire l'esatta natura del rugo. Non è escluso che si sia trattato di un'intimidazione, un'ipotesi ora al vaglio degli inquirenti che hanno ascoltato l'ex sindaco. Attenzione e puntata, come accade sempre in questi casi, ad eventuali immagini di qualche sistema di videosorveglianza in funzione nella zona. Da Montesarchio a Pannarano, dove ad essere distrutto dal fuoco, è stato un altro veicolo. Si tratta di un autocarro Isuzu, di proprietà di un'azienda che si occupa di spurghi fognari ed altri servizi per l'ambiente. Lavoro anche in questo caso per i vigili del fuoco e i carabinieri della cittadina Caudina. Si chiama Alessandro ed è il primo neonato abbandonato nella culla termica del policlinico Federico II di Napoli. Il bimbo ha circa due settimane di vita, pesa 3,7 kg ed è stato lasciato nella culla termica a mattedì 8 agosto, poco prima delle ore 13. Alessandro ora è affidato alle cure del dottore Raimondi, le sue condizioni di salute sono buone. Qualora la madre continua ad essere assente, sarà attivata la procedura di adozione. È stato approvato con 13 voti a favore della maggioranza il rendiconto, il bilancio 2016 del comune di Avellino, ma non sono mancate le fibrillazioni anche in maggioranza. Vediamo. Il rendiconto 2016 passa con 13 voti della maggioranza, un'astenzione, quella di Adriana Percopo, i banchi vuoti della minoranza che per protesta abbandona l'aula. Una seduta, quella di ieri, che ha messo in evidenza ancora una volta la frattura del PD. La segreteria nazionale aveva infatti già disposto il provvedimento di commissario a firma del responsabile dell'organizzazione Andrea Rossi, per il quale si attendeva solo il placet della Commissione di Garanzia Nazionale. Non una novità per l'ambiente politico locale, viste le numerose divergenze interne che hanno diviso i democratici nel corso degli ultimi mesi. A via tagliamento le porte si aprono dunque per David Ermini, 57enne avvocato fiorentino e originario di Figline Valdarno, responsabile nazionale giustizia del PD e già commissario regionale del PD in Liguria nel 2015. L'atto ufficiale è stato recapitato alla segreteria provinciale intorno alle 19 di ieri, proprio durante il Consiglio Comunale. Il sindaco Paolo Foti ha tenuto a precisare che serve un clima di pace, serve una pacificazione all'interno delle correnti del PD. Solo davanti a questa situazione, ribadito, il partito potrà stilare delle liste ben fatte ed attendibili. In aula però ha fatto ritorno anche il caso teatro e dei biglietti omaggio con Giaccarlo Giordano, gruppo Sipuò, che dopo averlo denunciato due giorni fa ha rincarato la dose. Non farò i nomi di chi è presente nell'elenco, ma darò un numero. I consiglieri del PD, non tutti a dire il vero, hanno ottenuto in questi anni circa 320 biglietti. Intanto proprio Giordano ha programmato una conferenza stampa per illustrare nome per nome. Un intervento più politico, quello della capogruppo Nadia Race, che tenta in vano di sollecitare qualche esponente della maggioranza a prendere parola. Ieri, con 19 voti, avete imposto ai cittadini di Avellino di pagare di più per i servizi sociali. Ora invece la maggioranza si è già liquefatta. Tragedia all'alba lungo l'autostrada E45 nel territorio di Maiano Sabina, nel Lazio, dove un traslocatore beneventano è morto in un assurdo incidente stradale. Il furgone sul quale viaggiava il 52enne è stato centrato da uno pneumatico che si è staccato da un camion in transito sulla corsia opposta ed ha sorvolato il guardrail colpendo tragicamente il furgone. Nulla da fare per il Sannita morto sul colpo sotto sciocco il collega che viaggiava in cabina e che è riuscito a fermare il mezzo fuori controllo. E adesso parliamo di incendi. La Campania continua a bruciare un rogo ogni ora. ha chiuso la statale tra Sapri e Maratea, ha chiuso una delle strade maggiormente trafficate per raggiungere il mare. Intanto tornano le fiamme nell'oasi degli Astroni e anche nella pianura di Chiaiano. Sentiamo. La Campania continua a bruciare. È stato chiuso al traffico un tratto della statale 18, tirrena inferiore tra Maratea e Sapri, per un incendio che ha letteralmente paralizzato i collegamenti di una delle vie maggiormente trafficate per raggiungere il mare. Ma il fronte del fuoco avanza in molti punti della Campania, aerei in volo, supporto di squadre speciali a 15 in Irpini e a Bracigliano. Emergenza senza fine sul Vesuvio, ieri devastazione e fiamme in località Montedoro a Torre del Greco. La conta dei danni restituisce uno spaccato tragico. Incendio anche a Casandrino, nell'area sottostante Lasse Mediano e poi in provincia di Caserta. Le fiamme sono arrivate quasi nei pressi del centro commerciale Campania, rendendo l'aria irrespirabile. Ancora abitazioni minacciate dalle fiamme per l'ennesima giornata di emergenza. Ben 25 i roghi nei boschi e nelle aree verdi in Irpinia, che sono stati registrati, tanto da impegnare 200 operatori e 19 mezzi di terra. Dopo Rocca Bascerana, il fuoco ha lambito una serie di case tra Iello del Sabato e Serino, lungo la strada della località Satrano. Travolta dalle fiamme, anche la località Sant'Anna di Mercogliano e Contrada Polizia a San Potito. Problemi inoltre a Capri e in una zona poco distante da Via San Felice a Grottolella. Brucia ancora la vegetazione nelle zone di Breccelle tra Monteforte, Irpino e Forino, ma roghi anche su a Calabretto e Monteverde. La situazione è in continua evoluzione. L'emergenza sta mettendo a dura prova tutti gli operatori che lavorano ormai senza sosta. E all'emergenza incendi si affianca l'emergenza idrica e crisi sull'isola di Capri dove la quasi totalità dei cittadini del comune di Anacapri si sono svegliati stamattina con i rubinetti letteralmente a secco. Lo stop all'erogazione dell'acqua annunciato avrebbe dovuto essere contenuto tra le 23 e le 7 di stamane. Invece probabilmente a causa di alcune manovre errate l'acqua non è arrivata nella rede idrica dell'acquedotto di Anacapri lasciando a secco i rubinetti e scatenando la prevedibile protesta degli utenti. E adesso torniamo a Salerno. Sicurezza, spaccio e violenza sul lungomare del capoluogo visti i ripetuti episodi negli ultimi tempi è stato chiesto al sindaco di convocare un comitato ad hoc per l'ordine pubblico e la sicurezza. Lungomare, terra di nessuno, spaccio di sostanze stupefacenti, ambulanti ovunque, i vigili urbani con le mani legate per la mancanza di un piano interforze per l'assenza di cani antidroga per l'inadeguatezza di uomini e mezzi a partire dalle 13 nuove auto tutte prive di radiomobile. Se ne è discusso nel corso dell'audizione in commissione trasparenza convocata da Antonio Cammarota. Era presente anche Angelo Rispoli responsabile del CSA il sindacato di polizia municipale che lancia l'allarme. Noi siamo stati spinti dalla drammaticità della situazione in cui noi operiamo. Pensare che la lungomare dove a nostro parere in base alle nostre esperienze ci sia un problema serio di presenza di contraffazione in grande stile centinaia di venditori abusivi non sempre in regola col permesso di soggiorno e che la corsia centrale o lo spazio di fronte a Santa Teresa ci siano persone pluripregiudicate alcune delle quali con assembramenti sospetti tipici di chi pratica lo spaccio pensare che questa situazione possa essere affrontata con la polizia municipale è oggettivamente al di fuori di ogni norma. Avete chiesto anche la presenza dell'esercito? In passato Salerno era stata inclusa nel programma strade sicure. 15 anni fa col sindaco De Luca noi firmammo il primo protocollo per un'azione interforze oggi noi non abbiamo un piano straordinario di impiego dopo le 20 non abbiamo più pattuglie ebbene che i cittadini di Salerno lo sappiano non è che noi abbiamo le pattuglie occupate non ci sono proprio. Oltre 4 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai carabinieri di Napoli stiamo guardando insieme le immagini che hanno intercettato un autotreno con targa della Romania ed arrestato l'autista Valentin Michelance 40 anni di nazionalità rumena le sigarette importate dai paesi dell'est erano destinate al mercato della Campania ma anche ad altre regioni per un valore complessivo di 630 mila euro all'interno dell'autotreno fermato dai militari della compagnia Stella le sigarette erano nascoste in 40 bancali di pannelli di materiale composito e poliuretano espanso per la coibientazione l'autista dell'autotreno è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale e adesso torniamo nel sagno i dipendenti della Trotta Mobility azienda di trasporti del capoluogo Sannita hanno proclamato lo sciopero protestano per il mancato pagamento il saldo di due spettanze due mensilità e della quattordicesima l'assessore Ambrosone prova a fare chiarezza i dipendenti della Trotta Mobility l'azienda trasporti beneventana hanno proclamato lo sciopero la protesta si concretizzerà in una data dal 20 al 26 agosto i sindacati protestano per il mancato pagamento di due stipendi e della quattordicesima l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone prova a fare chiarezza mi auguro che si possa arrivare come dire anche alla possibilità di non proclamare lo sciopero da parte dei sindacati perché nell'avvertenza è emerso un dato importante ed era quello che per la verità la Trotta Mobility ci aveva già rappresentato e che effettivamente loro hanno fatto tutti gli adempimenti con l'istituto previdenziale ieri in prefettura ci siamo attivati da subito e abbiamo inviato una comunicazione all'ufficio delle entrate di Roma al direttore regionale proprio per rappresentargli la possibilità visti gli adempimenti fatti e anche documentati da parte della Mobility di Trotta di poter accelerare le procedure quindi di ufficio burocratiche per consentire poi la liberazione di questo DURC che poi alla fine va a determinare la possibilità concreta e reale del pagamento di questi stipendi i sindacati hanno inteso appieno hanno capito che non c'è un problema serio non c'è un problema fallimentare perché se fosse stato così il Comune poteva intervenire e quindi pagare direttamente gli stipendi dopo quattro anni di governo il prefetto Carlo Sessa lascia la provincia di Avellino si aspetta il nuovo intendente di governo intanto Sessa traccia un bilancio dei suoi quattro anni di attività dopo quattro anni alla guida della prefettura di Avellino questa mattina il prefetto Carlo Sessa ha salutato la città ritorna da pensionato nella sua città di Taranto portandosi con sé un bel ricordo dell'Irpinia non era nemmeno il caso di fare un bilancio della mia attività la conoscete probabilmente meglio di me anche nelle passate interviste sono state esaminate tutte le varie problematiche passo passo Torno a sottolineare l'apporto vostro la vostra professionalità è estremamente utile spero che sia utile anche il mio successore spero che possiate offrirgliela in maniera in maniera idoria anche perché devo dire che il mio successore inizierà la sua attività senza uno dei pilastri della prefettura che era il dottor Amabile che è qui dietro e che mi ha preceduto di un mesetto nell'andarsene in pensione e che è la memoria storica di questa prefettura dall'emergenza migranti alle vertenze degli operai fino alla gestione della bonifica dell'area ex isochimica il prefetto Carlo Sessa in questi anni alla guida della prefettura ha dovuto affrontare non pochi problemi la bonifica dell'isochimica credo che sia stato un buon risultato facciamo un rilievo anche grazie a un elicottero e portammo i dati fotografici alla commissione ambientale ecco quello è stato un problema che si è sbloccato per le altre situazioni per lei mi chiedeva della Valle del Sabato lì è la situazione un po' più frammentata abbiamo costituito un comitato il comitato ha lavorato sono state fatte una serie di analisi poi ci sono state una serie di interventi anche da parte della magistratura che devo dire sull'ambiente ha sempre lavorato ha prestato la massima attenzione ha lavorato in maniera efficiente e rapida primo giorno di libertà per il 28enne accusato dell'omicidio di Antonio Parrella il 32enne massacrato di botte durante una festa di compleanno ieri i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rimesso in libertà Umberto Sferruzzi il 28enne di Benevento in carcere da 13 giorni con la pesante accusa dell'omicidio aggravato dai futili motivi di Antonio Parrella il 32enne morto a Rummo per una devastante emorragia cerebrale causata dai calci e dai pugni ricevuti durante una festa di compleanno che si era svolto in un ristorante del Capoluogo Sannita lo scorso 28 luglio il Riesame ha dunque annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del giovane chiamato in causa dalle indagini della squadra mobile il Tribunale di Napoli infatti ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane accogliendo le argomentazioni esposte dal suo difensore l'avvocato Antonio Leone che nel corso di una discussione supportata anche dalle analisi minuziose delle immagini fissata dalle telecamere di un'abitazione vicino al locale teatro della tragedia aveva spiegato le argomentazioni della difesa fotogrammi dai quali ha fatto notare il legale non emerge alcuna responsabilità del suo assistito il Riesame ne ha condiviso le conclusioni e ha scarcerato Sferruzzi assestando un colpo inevitabilmente duro al lavoro fin qui svolto dagli inquirenti secondo i quali invece esistevano e come una serie di elementi a supporto del coinvolgimento del 28enne e adesso parliamo di cultura il tesoro degli avori medievali di Salerno approda al meeting internazionale di Rimini a presentare l'evento il vescovo Moretti è uno dei tesori più preziosi della città di Salerno custodito nelle sale del museo diocesano parliamo degli avori medievali le tavolette intagliate che rappresentano l'antico e il nuovo testamento dal 20 agosto al 26 la mostra sarà portata alla fiera di Rimini un evento internazionale ambasciatori di Salerno e gli studenti guidati dalla professoressa Carmela Siani spero che la bellezza di questi avori che ha affascinato innanzitutto me e poi i miei ragazzi possa continuare questa avventura del fascino quello di cui mi sono accorta è che la bellezza con i ragazzi veramente come dire una porta che apre il cuore apre un mondo perché io mi sono stupita del fatto che i ragazzi di 13-14 anni potessero sacrificare le loro vacanze dietro a questa cosa perché poi implica anche uno studio gli avori sono una cosa che ormai fa parte quasi della mia vita perché sono tanti anni che sono più anni che spiego faccio diciamo da guida qui a Salerno e ovviamente il meeting sarà l'occasione perfetta perché si uniscono le due cose di conoscere nuove persone nuovi ragazzi fare tante conoscenze e poter spiegare appunto a questi ragazzi una cosa che mi prende che mi piace molto il vescovo Moretti si è detto particolarmente fiero di questi ragazzi che si faranno messaggeri delle meraviglie del museo diocesano è stata anche l'occasione per parlare di San Matteo patrono di Salerno San Matteo non è un feticcio ha ricordato il vescovo a margine della conferenza stampa lanciando una chiara frecciata a chi si attende festeggiamenti in grande stile bisogna continuare il percorso di purificazione di San Matteo ha aggiunto Moretti a buon intenditor poche parole e questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale ringraziandovi per l'attenzione vi lascio al meteo poi c'è il TG Sport di San Matteo di San Matteo e questo è un'ottimo servizio Grazie a tutti.